buongiorno viaggiatori siamo sotto la pioggia siamo arrivati al borgo di celleno adesso ve lo faremo vedere è un borgo dell'alto lazio siamo vicino di terbo ed è stato abbandonato tra il 1930 e il 1950 perché perché il borgo sorge su una rupe di tufo ma a seguito di smontamenti cedimenti del terreno è stata abbandonata ultimamente stanno recuperando alcune vecchie botteghe ed alcune abitazioni per renderlo visitabile e adesso ve lo faremo vedere questo forgo è denominato borgo fantasma proprio per quello che dicevamo prima per il fatto che è stato svuotato e gli abbinanti hanno lasciato tutte queste abbiazioni tranne il castello perché nel castello ancora ci abitano adesso andiamo a vedere il museo delle macchine parlanti dove ci sono anche delle moto d'epoca grazie a tutti qui nel borgo di celleno detto anche borgo fantasma ci sono tantissime botteghe dove potete trovare tantissimi oggetti dell'epoca passata questi oggetti sono stati donati da alcune famiglie del posto o ritrovati nelle cantine entrare qui dentro è un salto nel tempo grazie a tutti 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 conterà la storia del paese ed è bellissima. Grazie per la visione!